Il Radio c'è la riunione in corso della Lega al Governo con ministri, viceministri e sottosegretari. Giugnone, molto positiva, propositiva, operativa. Sono finalmente usciti anche diversi nomi di civici, perché la nostra scelta di allargare alla società civile il centrodestra in tutta Italia sta raccogliendo dei frutti. A differenza di PD e 5 Stelle noi abbiamo la certezza che correremo uniti in tutti i comuni, da quelli più piccoli a quelli più grandi. Oggi al tavolo sono emersi 4 o 5 nomi che fino a settimana scorsa non c'erano. Ciascuno si è impegnato ad approfondire su Bologna, su Roma e su Milano, che sono le tre grandi città dove i nomi sono tanti, mentre su Torino e su Napoli pare che la società civile abbia già scelto. Quindi ci riaggiorneremo a breve e ripeto, il valore aggiunto dell'unità del centrodestra rispetto alla litigiosità in tutte le grandi città della sinistra ci rende assolutamente ottimisti. Poi per rispetto di tutti non do giudizi su questa o su quel candidato, sono tanti bei nomi. Qualcuno personalmente, lo sentirò nelle prossime ore, c'è qualche primario ospedaliero piuttosto che qualche grande imprenditore che deve dirci se ci sta, e quindi entro la settimana avremo il quadro più chiaro. Come lega, aggiungo questa riflessione, visto quanto è bello ma quanto è difficile, mal pagato e giuridicamente pericoloso fare il sindaco, entro questa stessa settimana presenteremo una proposta di legge per aumentare lo stipendio e soprattutto le titele giuridiche dei sindaci che si dannano l'anima ma troppo spesso sono mal pagati e ingiustamente puniti. Quindi ben contento di aver convocato questa riunione che era allargata a tutte le anime del centrodestra. Come Milano si fanno i nomi di Michetti e Raccano, pensate che siano nomi di serie B, cioè poco conosciuti? Non ci sono nomi di serie B, ripeto, noi vadiamo alla sostanza e non alla forma. Ma quando parliamo di imprenditori, di avvocati, di docenti universitari, di farmacisti o di industriali che siano televisivamente conosciuti, mi interessa poco, mi interessa che possano fare i sindaci. Sono nelle rete dei sindaci? E tutti i nomi di cui stiamo parlando sarebbero assolutamente in grado di fare il sindaco a Roma meglio della Raggi, a Milano meglio di Sara. Feltri del debbio di questi nomi ne avete parlato anche? No. Avete parlato anche delle copasi? No. Abbiamo parlato solo e soltanto di comuni. Grazie. 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 Grazie.